Filippo Merenda, DS del Faventi, si è appena concluso il mercato, è stato un mercato vivace, molto movimentato, gli ultimi colpi sono stati i cosiddetti colpi last minute. Sì, è stato un bel mercato, tra l'altro sono riuscito a prendere tutti dei giocatori che avevo in mente da anni, da quando ancora giocavo, ad esempio Vignoli, Igor, è sempre stato un mio sogno, diciamo che per chi gioca a questo sport è visto come un mito, dopo tanto tempo di corteggiamento si è riusciti a portarlo qua da noi, si è riusciti a prendere cavina dal Castel San Pietro che è un gran giocatore e poi tutti gli altri, i barbieri, tutti quelli che sono arrivati sono forti. Come nasce l'idea di cedere Grelli? Allora Grelli innanzitutto è stato il mio primo acquisto da direttore sportivo e non l'avrei mai mandato via se non fosse stato lui a chiedermi l'accessione. Il mercato finalmente è finito, dove si può arrivare quest'anno? Senza falsa modesta questo è il Favente più forte di sempre, poi è ovvio che in tutto ci vuole anche una componente di fortuna, per gli infortuni eccetera eccetera, però credo che quest'anno con il gruppo unito e questi giocatori che sono molto forti, secondo me ci possiamo togliere belle soddisfazioni.